Come è arrivato il momento in cui tutti noi umani dobbiamo avere più rispetto per la natura, più rispetto per l'aria, per l'acqua e per il sole, perché dobbiamo allontanare la fine del mondo che ormai abbiamo capito che ci sarà e per allontanarla l'unica maniera è mettere questa nuova marcia del rispetto. All'interno di questa dinamica il rifiuto ha una componente fondamentale. Abbiamo deciso di lanciare una grande campagna Italy Rifiuti Zero, cioè un'economia totalmente circolare in cui tutto quello che usiamo poi ridiventa qualcosa di buono. Abbiamo incominciato con Novamont e la sua straordinaria invenzione che è Mater B per fare in maniera che tutte le merci che servono per imballare, contenere, trasportare, lavorare i prodotti che noi vendiamo debbano essere totalmente riciclabili, compostabili. In questo Novamont ci ha dato la grossa mano ci siamo arrivati. Ormai possiamo dire che in tutti gli Italy d'Italia, tutti i sacchetti, le confezioni, le carte per la carne, le vaschette per i salumi e i formaggi, per l'ortofrutta, i guanti per lavorare, tutto è in Mater B e quindi 100% compostabile. Poco dopo lanceremo la grande campagna perché già in due Italy, Torino e Milano, stiamo sperimentando il cerchio completo, l'economia circolare totale, cioè tutto il vetro che ritorna a vetro, tutto il cartone che ridiventa cartone, la poca plastica che usiamo che diventa sacchetti per trasportare le merci e infine, cosa molto importante, tutti i rifiuti organici, quindi umidi, che diventano compost per l'agricoltura. Stiamo, sperimentiamo da qualche mese, continueremo a farlo ancora in questi due Italy per vedere quando saremo posto, che tutto funziona, logistica, eccetera, lo diffonderemo in tutti gli Italy, prima in Italia e poi nel mondo. Grazie.